Come promesso sono ritornata dalla mia amica Laura Eva Carli nel suo negozio di via Masaccio Spazio Libero perché Laura dopo insomma che gli ho detto insomma mi raccomando perché ci sono tanti argomenti lei ha avuto insomma questa idea, questa bella idea di parlarci della progettazione in 3D delle vostre case, dei vostri uffici, giusto? Di tutto quello insomma che una persona che viene qui vuole arredare che sia un bar, una casa, un ufficio o anche una singola stanza del vostro appartamento quindi Laura chi meglio di te, poi lo vediamo anche nel computer, può parlarci di questo tuo progetto in 3D delle case Esatto, diciamo che noi è dall'85 ormai che arrediamo le case, negozi e attività di Arezzo quindi un'esperienza di 30 anni ci ha portato a capire come va fatta la progettazione per un cliente la progettazione è un momento di chiarificazione per chi si accinge a fare una cosa dove non è ferrato perché se a me mi dici mettete a fare le scarpe io non ci capisco niente se mi dici arredami una stanza, fammi un extreme makeover, un recupero figo di un ambiente senza spendere tanto questo è il nostro pane ormai da 30 anni quindi su questo ne siamo capacissimi però diamo la possibilità al cliente di non fare per forza tutto subito perché quando facciamo una progettazione prima di tutto cerchiamo di capire quali sono le esigenze è inutile che faccia una cucina minimal senza spazi dove mettere le robe a una che ha una famiglia con 4 fioli chiaramente lei avrà un'esigenza di capacità la single che invece fa tutto surgelato sicuramente avrà una progettazione diversa parlavi di me? no, per sapere favolosa quindi devo dire che la progettazione viene in primis da noi calibrata in funzione delle necessità del mio cliente primo e secondo viene fatta una realizzazione di rendering in 3D che ora vi faccio vedere insieme alla Rita ma poi viene fatta anche una lista della spesa che è favolosa perché la lista della spesa va a significare in una griglia per dire ingresso mi ci vorrà due applic, mi ci vorrà un attaccapanni, mi ci vorrà la tenda, il palo della tenda il soggiorno, mi ci vorrà il divano con il letto perché mi viene a trovare la misocera dupalle, mi viene a trovare, mi ci vuole il tavolino da mettere sul divano per metterci il computer così io la sera cincistio su internet quindi tutto viene enunciato in una lista dove è un reminder questa lista come una lista della spesa per chi si accinge ad arredare di modo di che non faccia gli acquisti a matto esatto, che uno si emoziona, vede un oggetto, lo compra in casa sua non gli c'entra non gli c'entra non sa dove metterlo esatto, quindi questa lista della spesa ti aiuta a programmare i tuoi acquisti perché non è detto che tu debba comprare tutto subito però la tua lista della spesa ti fa capire che sto messe mi avanza 300 euro ci compro la poltrona di design, ci faccio l'armadino per le scope, l'aspirapolvere che almeno metto tutto a posto quindi è una progettazione intelligente e utile andiamo a vedere un po' di disegni bene, benissimo ah, volevo ricordare che questo tipo di progettazione che noi facciamo in 3D è totalmente gratuita e senza impegno quindi basta portare la piantina della casa con le misure se non ci cavate niente se vi è noi ve se pigliano noi le misure e qui per dire vedi una soluzione di una ragazza che voleva tanta capacità e voleva un piccolo spazio toilette dove potersi truccare quindi la capacità di quest'armadio è tanta e vado a chiudere questa colonna brutta che mi ingombrava nella stanza non vado a fare un modulo su misura qui perché tanto non ci metterei niente e spenderei dei soldi inutilmente ho la toilette e ho la mia camerina bellina giusta questo per dire... ecco, questo come infatti ho detto non è necessario che uno deve arredare tutta la casa uno può arredare anche solo una camera se la vuole per esempio rinnovare, rimodernare esatto, stiamo vedendo varie tipologie questa per dire è una bellissima casa dove abbiamo fatto uno studio globale dove ti vado a enunciare da quello che ti occorrerà nel bagno dove posizionare gli attacchi perché poi quando ti faccio la progettazione in 3D ti vado a significare anche gli attacchi elettrici ed idraulici sovente arriva la gente e ti spero oddio Laura, domattina l'idraulico va all'attacchi che ne dico? Enzo posso mica dare a caso? va visto? quali spazi, che tipo di tavolo ti accoglie questa casa? dove è più giusto mettere il lavello e la lavastoviglie di conseguenza io ti dico dove far collocare gli attacchi ai professionisti del caso che sono l'idraulico o l'elettricista quindi qui vedete un altro tipo di progettazione globale vedi che bello ecco, vedere la tua casa in 3D in questo modo ti permette di dire bene, mi piace perché poi noi andiamo a ponderare tutti quelli che sono le zone di passaggio ormai insomma abbiamo una certa esperienza però il cliente dal primo disegno già può dire guarda questa poltrona in più non mi ci piace lo voglio più libero e quindi si va a eliminare tanti errori con la progettazione 3D capito? molto interessante e poi insomma è anche abbastanza conveniente perché insomma poi uno se per esempio non gli piace oppure si ripensa insomma uno viene qui Laura guarda ci ho ripensato quella cosa non mi piace e tu la puoi cambiare puoi vedere come viene insomma ecco, la progettazione in 3D veramente è la cartina torna sole di quelle che sono le idee un po' buttate là di una persona che magari non ha spirito di immaginazione io quando entro in una stanza vado a prendere le misure già so cosa ci verrà e come ci verrà la vedo ma sono io 30 anni di esperienza un cliente magari un disegno in 3D così gli può far capire tante cose in più questa per dire guarda che ganzata un'autoscuola che abbiamo fatta favolosa con un soppalco con l'ufficio dirigenziale di sopra con sotto la sala studio dell'autoscuola quindi si va a fare bar si vanno a fare attività commerciali si vanno a fare negozi si fanno tante cose e la progettazione ti ripeto mi fa fare meglio il conto della serva no questa stanza mi accoglie 25 seggiole non 26 e quindi aiuto il mio cliente a non commettere un errore che magari lui non lo sa ne compra 5 in più e ci fa la birra come se dice Arezzo ecco capito? quindi ecco la progettazione in 3D è una grande opzione che noi diamo gratuitamente ai nostri clienti ed amici per poter concretizzare e vedere come può avvenire fuori un ambiente è gratuita è senza impegno è fatta da professionisti che ormai lo fanno da 30 anni quindi prendete subito le misure e venite qua e più che altro prendete l'appuntamento perché la Laura è sempre super 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 impegnata giusto Laura? sì che bello ora parto e vado a fare degli acquisti per tutta la nuova collezione in Olanda di una dita di design bellissimi quindi vi porterò un paio di zoccoletti da olandese via sta prendendo no io volevo dire che a forza di stare col Franceschi sta prendendo le sue battute allora dovete vedere che su Facebook ci sono certi batti becchi come Sandra e Vianello sì che io guardo allora ecco diciamo la verità ora parte tutti gli scherzi quindi venite nel suo negozio qui ad Arezzo in via Masaccio e poi ricordiamo anche gli altri punti vendita che sono a Subbiano giusto? a Subbiano sì e praticamente l'importante è anche l'orario continuato nel nostro negozio in via Masaccio dietro la stazione d'Arezzo zona Pionta osserviamo un orario comodo proprio per voi che avete da fare da correre dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 siamo sempre aperti 7 giorni su 7 e la domenica perché a voglia di fare shopping la domenica tutte le domeniche dell'anno dalle 4 alle 8 ecco ti devo dare il microfono me ne vado come la la mia stellina non la cambio fabolosa come il dizzale non la cambio allora venite a trovare Laura e Eva qui nel suo negozio e mi raccomando chiaretondo.tv dillo Eva anche te chiaretondo.tv ah e seguite anche Franceschi su Radio Rai che è favoloso ma fatta anche una dedica alla Dama Bianca è vero è lei mi raccomando se lo sentite è lei favoloso con il nostro pupo grande aretino salutiamo tutti ciao pupo e ciao Leonardo ciao ciao